musica 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 mauri ma che stai facendo? mi sta ingruppando un pezzo di legno mauri ma sono da solo cioè sono Mustafa? allora io sono su Minecraft lui è su GTA e lui è su FIFA e benvenuti in questo nuovo video di FIFA FIFA la gente che muore in modo orribile no no blu di vedere la scena che succede? cos'è tipo che voi umani tu umani e non... voi umani che state ascoltando non poteste neanche immaginare è un film ma in coltello si no di me oh ci sono riuscito ci sono riuscito cosa è successo? ci sono riuscito oh raga ha vinto terzo premio terzo premio metaglia di bronzo come la partner la partner di Beaster prendo qual'è? come si chiama? Beaster Townsendware che no io ragazzi vorrei suggerire una partner ai miei iscritti Milagod no no ragazzi mi suggerisco questa partner proprio tu perchè è un nome molto figo e si chiama Owe So Omenes no aspetta vera padlan originale 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 solo soldi originali non cinesi tutto incluso sono fatti in cina belli soldi fatti in cina ma dove sto andando darp sono su block party ti aspetto ti aspetto io in quel server non ci entro manco se mi paghi non te registro anche senza di te allora no mi sento offeso ciao